È aperto da pochi giorni presso l'ospedale Tartarella di Cirignola, il centro di uroginecologia d'Italia, a operare il direttore del reparto di ginecologia dell'ospedale Obantino da Fiero, insieme a altri suoi collaboratori. In questi primi mesi di attività a Cirignola ha già registrato ultimi risultati con tecniche innovative e mini-invasive di cui si avvale. Tra l'altro in particolare nella biognesi e nella classificazione della patologia e del pavimento pelvico e del conseguente follow-up dei pazienti. Soddisfazione è stata espressa dal direttore generale dell'ASL, Oggia Piazzolla, che ribadisce il ruolo centrale che l'ospedale Tartarella occupa nell'ambito della pianificazione aziendale e nell'intero sistema di offerta di salute e assistenza dell'ASL, Oggia. Mimmo Siena, Speciale News.